Dove le emozioni diventano vibrazioni, entra nel centro della musica, la Fisarmonica dei numero 1, a Stradella, per scegliere il meglio, la Fisarmonica dei numero 1, semplice, ByMarco, telefono 0385 40 501, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato, festivi dalle 9 alle 12, su web www.bymarco.it, è tutta un'altra musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.